Era la partita più difficile e più temuta della Roma di queste ultime settimane, eppure la Roma è riuscita a superarla veramente a pieni voti e con pieno merito. La Roma che consolida il terzo posto in classifica, prende punti all'Inter, al Milan, ma soprattutto è l'unica squadra di quelle che hanno disputato le competizioni europee ad uscire con una vittoria. Adesso ci sarà poi la Fiorentina domani, ma per quello che riguarda le statistiche, perché per quello che riguarda la classifica della Roma diventa ininfluente. Però al momento, a oggi e a questa sera, quindi a domenica, l'unica squadra che è riuscita ad ottenere la vittoria dopo le competizioni internazionali è stata proprio la Roma. E lo ha fatto con pieno merito battendo una squadra difficile, una squadra ostica, una squadra che è preparata molto bene atleticamente e che benavano pure come pochi. Perché insomma è una squadra che fa sentire un po' tutto quanto il suo peso fisico. Qui ormai ci stiamo abituando ogni fine partita a contare un po' i reduci, perché chi esce con i cerotti, chi esce con le fasciature, chi con la borsa del ghiaccio. Insomma, si è lottato, però si è lottato comunque bene e alla fine la Roma ha vinto ancora una volta inesorabile. Quando va in vantaggio la Roma non stecca mai. È successo soltanto una volta quest'anno a Sassuolo contro il Sassuolo, ma per il resto tutte le altre volte in cui la Roma è andata in vantaggio è riuscita a vincere e a battere il suo avversario. L'ho fatto con un 3-0 netto, grazie anche poi alla parata di Rui Patrizio sul calcio di rigore di Pereira, che è stata l'unica occasione che hanno avuto loro, perché la Roma non concede praticamente nulla all'avversario, ma oggi meno male che tanto rigore, un'altra volta sbagliato, questa volta da Cristante bravissimo Bove a replicare in gol. Insomma, quello ha cambiato indubbiamente la partita. Contentissimo per il gol di Pellegrini, bello, veramente bello lo striscione che è stato messo in curva sud. Nel bene o nel male il capitano resta tale ed è questa la cosa vera e assoluta. Insomma, dopo che ne sono state dette delle cose ignobili nei confronti comunque di Pellegrini, che ancora una volta da quel grande giocatore quale risponde comunque sul campo. Pur sapendo benissimo lui stesso che non è certamente un'annata e una stagione per lui favorevole. Bravissimo Cristante, ha fatto veramente una grande partita. Peccato per il rigore sbagliato, però ha fatto veramente una grande partita. A parte poi il colpo che ha avuto in testa, quindi ha giocato con quella specie di turbante, ma ha giocato veramente bene. Oggi con delle scelte inevitabili da parte di Murigno nel cercare di alternare i giocatori. Belotti ha fatto un po' quello che poteva fare, ma è stato bravissimo nell'assist proprio per Pellegrini, che ha dato l'opportunità alla Roma di segnare il gol del 2-0. E poi contento naturalmente anche per il gol di Abram nel finale. Rui Patrizio che quindi pare a rigore, insomma diciamo che quelli che erano i giocatori un po' più discussi negli ultimi tempi, oggi si sono assolutamente riscattati. Anche se Belotti non ha segnato, però è stato determinante nell'assist fatto a Pellegrini in area di rigore. Bene Wijnaldum, bene naturalmente anche Matic quando è entrato e Bove. Bove ha fatto anche lui un'ottima partita, ha avuto il grande merito di sbloccare il risultato. Adesso chiaramente cuore e testa alla gara di giovedì. Bisogna veramente replicare quello che abbiamo visto questa sera per superare il Feyenoord. La Roma ha le possibilità di potercela fare, ma intanto andiamo lì e andiamo giovedì a Roma naturalmente, ma con il terzo posto in classifica consolidata. E questo dà anche una spinta psicologica direi importante alla formazione di Murigno. Adesso l'appuntamento è per giovedì. Un abbraccio a tutti quanti voi e sempre, sempre, sempre. Forza Roma! Forza Roma! Forza Roma!